Luciano Vigna, l'ex tragico assessore al bilancio della città di Cosenza che ha portato le casse del comune in default con un buco di svariate centinaia di milioni, ora viene premiato per i suoi brillanti risultati. Si trova a ricoprire il doppio incarico di direttore della fondazione Calabria Film Commission e di capogabinetto del presidente della giunta regionale. Una concentrazione di potere nelle mani di una sola persona che farebbe storcere il naso a chiunque? A dirlo è Carlo Tanzi, presidente e fondatore del movimento civico Tesoro Calabria, che spiega come la legge lo vieti. La legge regionale 16 del 2005 dispone che nell'ufficio di gabinetto non può essere utilizzato chi sia componente di organi statutari di enti, aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale, proprio come risulta essere la Film Commission. Certo Vigna, nell'istruttoria che ha portato alla sua nomina a capo di gabinetto, non ha presentato un'autocertificazione in cui afferma di non versare in alcuna causa di incompatibilità, ma non basta una dichiarazione farlocca per mettere sotto il tappeto la questione. Il direttore della Film Commission, spiegat'anzi, ha il potere di nominare consulenti, verifiche e rimborsi spese, gestisce le procedure di assunzione e reclutamento del personale e gestisce amministrativamente le procedure di concessione di contributi, acquisizione lavori, servizi, forniture, verifiche e controlli, mentre il capo di gabinetto della giunta regionale cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente. Difatti, l'articolo 18 dello Statuto della Fondazione chiarisce che la Regione Calabria esercita attività di vigilanza nei confronti della Fondazione stessa. Per questo Vigna non può ricoprire il ruolo di controllore controllato, e pertanto la logica e la legge, vorrebbe che si dimettesse subito. Capiamo la sete di potere e l'attaccamento alla poltrona unita alla totale indifferenza di un'opposizione consigliare complice di questo squallido sistema di potere che tende a non mutare mai lo status quo e l'incancrenirsi di sacche di privilegi. Ma è giunta l'ora, conclude tanzi, di fare prevalere la normalità politico-amministrativa, a favore dei calabresi a fronte della prepotenza esercitata da questi oligarchi cosentini.